Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Mantodi Aita. La protagonista del video di oggi è una mantide del genere Ierodula, genere vastissimo molto ben conosciuto dagli allevatori, con tante specie presenti in allevamento più o meno stabilmente. Questo genere comprende mantidi dall'aspetto piuttosto standard, tipicamente di dimensioni molto grandi, ed è presente nel continente asiatico, spingendosi fino al Caucaso, all'India e all'Australia settentrionale, anche se, come molti di voi ben sapranno, recentemente il genere Ierodula è arrivato anche in Italia, con le specie invasive Ierodula patellifera e Ierodula tenuidentata, che si stanno diffondendo nella nostra penisola veramente veramente molto. Il genere Ierodula è gigantesco, con confini poco definiti sia dal punto di vista morfologico che da quello della distribuzione, è inoltre molto spesso soggetto a revisioni e aggiornamenti. L'amantide che andiamo ad analizzare oggi comunque possiede qualche caratteristica che la rende abbastanza peculiare anche all'interno di questo grande contesto. L'amantide di cui parliamo oggi è la Ierodula maiuscula, già da questo nome intuirete che si tratta di qualcosa di abbastanza grande. È originaria del nord dell'Australia, in particolare dello stato del Queensland, situato proprio nella fascia tropicale tra l'equatore e il tropico del Capricorno, cosa che ovviamente si andrà a riflettere sui parametri di allevamento. Quello che spicca subito di questa amantide, come avevamo anticipato, sono le dimensioni veramente imponenti, che le rendono degna del nominativo maiuscula e che fanno sì che in natura questa amantide sia occasionalmente in grado di catturare addirittura vertebrati, come rane e piccoli serpenti. Le femmine adulte variano tra i 7 e i 11 centimetri, i maschi sono appena poco più piccoli. La colorazione è verde e brillante, ma all'interno delle raptatorie è arancione e nero e questa è una caratteristica peculiare di questa specie che non è presente in nessun'altra Ierodula. Questa colorazione viene spesso esibita nelle parate di minaccia, che vedrete piuttosto spesso, in quanto la Ierodula maiuscula è un'amantide dal temperamento estremamente aggressivo. Anche le zampe locomotorie e l'interno del torace sono intensamente colorate. Le neanidi rispetto agli adulti e alle ninfe più grosse hanno più variabilità cromatica. Anche a parità di condizioni di allevamento possiamo ritrovare esemplari gialli o di un bellissimo rosso. Gli adulti e le ninfe più grandi saranno praticamente sempre del loro bel verde intenso. Chi si vuole cimentare nell'allevamento della Ierodula maiuscula deve innanzitutto tener conto della sua mola imponente e della sua aggressività. Proprio per questo io suggerisco di allevarle singolarmente, perlomeno a partire dagli stadi L2 e L3, in contenitori adeguati allo stadio della mantide. Se per le neanidi i bicchieri di plastica possono andare bene, per gli adulti è necessaria un'altezza di almeno 25 centimetri. Più è alto meglio è. Piante finte e vere possono essere aggiunte purché non ostacolino troppo le mute. Vista la provenienza della mantide che avevamo anticipato, dovrà essere mantenuta un'umidità molto alta, dell'80-90%. Io mi sono trovato bene con substrato di terra o torba, muschio che aiuta a mantenere l'umidità alta, una nebulizzata abbondante ogni sera, ma quest'umidità molto alta dovrà essere bilanciata con una buona ventilazione. La ventilazione dall'alto e anche da un lato, laterale, è importante per prevenire ristagni. In ogni caso è una mantide estremamente resistente che tendenzialmente non riserva brutte sorprese e tende a perdonare anche qualche disattenzione dell'allevatore. L'alimentazione non pone particolari problemi, visto che l'ierodula maiuscola mangia veramente di tutto e caccia attivamente inseguendo la preda. Possiamo somministrare drosofile fino alle due, poi mosche, falene, blatte e ortotteri, cercando comunque di integrare molte prede volanti e di variare abbastanza la dieta per tutto il ciclo vitale. Dimorfismo sessuale è poco marcato a tutti gli stadi. Maschio e femmina si possono distinguere nelle ninfe più grandi soltanto con la tecnica del conteggio dei segmenti addominali. Compiono lo stesso numero di mute, cioè nove, e da adulti il maschio è appena più piccolo e meno tarchiato, ma non tanto quanto in altre specie di erodula. La riproduzione è generalmente semplice. L'unica difficoltà può essere data dall'aggressività e dall'insaziabilità della femmina. Una volta che i nostri esemplari sono adulti occorrerà aspettare almeno un mese abbondante per la maturazione, in cui andremo a nutrire la femmina molto abbondantemente con tre o quattro grosse prede settimanali, possibilmente aggiungendo un'infinità di mosche. L'accoppiamento è semplice da ottenere. Posizioniamo il maschio in modo che veda chiaramente la partner e distraiamo lei con una grossa preda. Il maschio rimarrà connesso per molto tempo, anche 36 ore o più, al termine delle quali verrà inevitabilmente divorato, anche perché l'allevatore non può stare lì per due giorni a controllare la coppia. A volte le femmine sono letteralmente impossibili da calmare e attaccheranno il maschio a prescindere. Tuttavia i maschi sono sorprendentemente abili nel connettersi anche mentre vengono divorati e l'allevatore può dar loro una mano aiutandoli a rimanovrare il loro addome. Nonostante il cannibalismo non impedisca la fecondazione, io consiglio assolutamente di avere un discreto numero di maschi, almeno due o tre per ogni femmina. Questo è in assoluto il consiglio più importante che vi posso dare sulla riproduzione di irodula maiuscola. Una volta fecondata la femmina non deporrà molte oteche, appena due o tre o raramente di più, a seconda anche dell'alimentazione e della temperatura. Le oteche verranno deposte su grossi rami o sul coperchio della teca in bella vista. Il miglior modo per incubarle è spesso lasciarle nel punto dove sono state deposte, spostando la mantide. Se sono state deposte su un ramo, possiamo spostare il ramo intero ricreando le stesse condizioni di allevamento della femmina adulta. Dopo almeno un mese e mezzo schiuderanno tra le 100 e le 150 neanidi, con mortalità alta ma minore rispetto ad altre specie dello stesso genere. Il cannibalismo L1 è quasi del tutto assente. L'allevatore può decidere se dividere queste centinaia di mantidi uno a uno, con mortalità molto bassa, oppure di tenerle in comunità, con mortalità molto alta, non tanto per il cannibalismo quanto per il fatto che ci sarà competizione per il cibo, territorialità e un minor controllo da parte dell'allevatore. In definitiva, la hierodula maiuscola si può considerare un'amantide prolifica e resistente. Visti i danni fatti da altre specie del genere hierodula in Italia, io ci tengo molto a ricordarvi di non liberarle assolutamente mai in natura, per nessun motivo. La hierodula maiuscola è, in ogni caso, un'amantide adatta a un allevatore principiante che tenga presente le caratteristiche principali di questa specie, voracità, dimensioni imponenti, aggressività. La colorazione brillante e la fortissima personalità la rendono un'amantide appetibile anche agli elevatori esperti e ad oggi è una delle specie più conosciute e allevate. Il video di oggi termina qui, se avete dubbi o consigli da chiedere e dare lasciate un commento o scrivetemi in direct sulla pagina di Instagram Mantodi Aita. Ci vediamo alla prossima amici, adios!